217 accessi in 24 ore, tutti gli spazi del pronto soccorso occupati. Non si è trattato di carenza di barelle, ma ad un certo punto di spazio necessario per ospitarle. Un iperafflusso di pazienti, insomma. E questa è la causa dei disagi che si sono vissuti nel pronto soccorso dell'ospedale Perlino nella giornata di lunedì 29 aprile, ad affermarlo il dirigente Nicola Carlucci. Ecco perché a un certo punto abbiamo utilizzato tutti gli spazi a nostra disposizione, abbiamo utilizzato tutte le barelle che disponiamo per localizzare al meglio le persone che sono giunte in pronto soccorso. Il caos di lunedì scorso rientra sì nelle difficoltà che ormai a Taviche da mesi la ASL di Brindisi vive, ma va ben oltre. La causa infatti è stata individuata da tempo. La causa molto spesso è in una mancanza di filtro da parte del territorio. Per cui le persone sul territorio non trovando un soddisfacimento a quelle che sono le proprie esigenze non trova altro che rivolgersi al pronto soccorso più vicino per vedere risolti i propri problemi. E dunque la combo letale, si fa per dire, per scatenare disagi nel pronto soccorso del capoluogo pare sia il mancato filtro sul territorio e i tanti accessi con codici di urgenza minore che possono essere smaltiti altrove, per esempio guardia medica o medico di famiglia. I codici verdi sono decisamente la maggior parte ed è quello che poi praticamente intasando il pronto soccorso bloccano tutto il sistema perché noi come pronto soccorso non è che siamo soli, noi dobbiamo fare anche riferimento alle strutture che ci circondano. Grazie 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 Grazie